La parola chiave che deve aprire il panorama del futuro è la superinterpretazione, è un po' tutto quello che si aspetta la donna in questo momento, perché ovviamente la cultura della donna è così emancipata che non ti puoi permettere di non capire i suoi problemi e di ovviamente saperli risolvere, perché è questo che le vuole, vuole essere unica e irripetibile, vuole essere ascoltata, vuole essere veramente interpretata. La parola chiave si chiama interpretazione, c'è questa voglia di capire tutto di lei per dare tutto quello che lei desidera.